auto demolizioni signor a villorba dal 1969 al vostro servizio rotamazione auto vendita ricambi nuovi usati vendita auto vetture sinistrate o usate ben trovati al meteo la perturbazione si sposta verso i balcani nella giornata di giovedì 9 giugno tempo ancora instabile e nuovo temporaneo calo termico vediamo insieme il dettaglio sul veneto spiccata variabilità con nubi anche estese specie fino al mattino e con fenomeni sparsi rovesci e temporali con il passare delle ore piogge in graduale cessazione ampie schiarite soprattutto verso sera temperature come detto in diminuzione minime tra 13 e 17 gradi massime comprese invece tra i 20 e i 24 gradi ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche qui evoluzione incerta avremo rovesci sparsi in genere moderati solo localmente abbondanti su pianura e costa soffierà bora moderata temperature minime sui 15 17 gradi massime sui 18 21 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige anche qui piogge in mattinata nel pomeriggio migliora con più sole temperature minime intorno ai 14 16 gradi massime sui 25 dal meteo di antena 3 per ora è tutto arrivederci al prossimo aggiornamento auto demolizioni signor a villorba dal 1969 al vostro servizio rotamazione auto vendita ricambi nuovi usati vendita auto vetture sinistrate o usate auto vendita